Leonardo, questo festival sta andando benissimo e chissà che non si concluda con ancora meglio, insomma già due premi portati a casa. È stato molto sorprendente, in effetti oggi abbiamo preso un premio sul suono che comunque è molto importante perché il film è un film molto silenzioso e anzi abbiamo cercato di lavorare proprio sul tessuto sonoro come per renderlo una partitura e quindi è stata una cosa molto sorprendente e bella che è successa. Poi domani prendiamo un premio rivelazione, oggi forse c'è qualcosa, non so, quindi siamo positivi, molto positivi. Assolutamente sì, emozionato? Beh abbastanza, è tutto nuovo per cui è una bella sensazione. Ma sei già a lavoro sul prossimo progetto? Ho iniziato a pensare a due progetti, uno sempre con Rinco Kikuchi con la stessatrice e uno sul narcisismo in Italia. E allora noi ti facciamo un in bocca al lupo per questa sera e chissà che non ci rincontriamo per il terzo premio e poi ci rivediamo molto presto. Va bene, grazie mille, ciao.